un investimento importante di un miliardo e 700 milioni di euro per un acquisto di 214 treni 154 già consegnati già in rete innovazione che ci porta ad avere sistemi anche dal punto di vista tecnologico innovativi e che danno un miglior conforto migliore prestazioni per il servizio e migliorano anche nel percentuale di puntualità dei treni anche sulla gomma stiamo facendo degli investimenti importanti 250 milioni di euro investiti con mille autobus nuovi che sono di varia natura abbiamo ibridi abbiamo autobus elettrici e vogliamo ovviamente cambiare la flotta perché siamo per la neutralità tecnologica e guardiamo con attenzione anche alle emissioni zero che è fondamentale ha fatto un distinguo sia per quanto riguarda il trasporto urbano da quello suburbano perché noi le difficoltà più grosse le incontriamo nei piccoli paesi nei paesi che non sono capologo di provincia per la gente che si deve spostare verso le grandi città è chiaro che noi dobbiamo creare una sorta di interconnessione tra varie province e questo lo si fa anche collegandolo alla mobilità dolce perché a questo aggiungo piste ciclabili che siano chiamate però piste ciclabili non definisco tali quelle di milano e questo ci porta quindi a fornire una gamma molto ampia di trasporto anche col car sharing noi abbiamo una società regionale che vai che fornisce un car sharing diverso da quello che si ha nella zona urbana e quindi della singola città quindi questo è uno dei tanti percorsi che stiamo facendo per creare l'interconnessione e poi anche l'intermodalità per i mezzi perché non ne abbiamo parlato una cosa importante è anche il trasporto merci che è fondamentale e sull'opera infrastrutturale per esempio quello che sta nascendo con il quadruplicamento della linea ferroviaria della milano genova noi raggiungeremo in 50 minuti milano genova